Non c'è dubbio che Cesare ha ragione, non tanto sull'opposizione ma sulla questione che non si può permettere che vengano fatte queste cose in cattedrale con tutta l'ordinanza che c'era stata. Cioè non vorrei che sia stato un momento di rilassamento e ci siamo scordati che le nostre sono splendide opere d'arte, patrimonio dell'umanità e ce lo dimentichiamo perché ora si deve insediare, io voglio l'ufficio, tu devi andare via, mi serve la stanza perché giustamente tutti gli assessori devono avere adeguate stanze per poter amministrare. Poi un giorno vedremo anche quali sono i costi, ma per ora lasciamo stare, aspettiamo solo che facciano qualcosa di buono. Complimenti a Cateno De Luca, ne parleremo dopo perché mi sembra una cosa molto interessante, il fatto che ci sono delle manifestazioni che poi si fanno sulle spalle delle città. Loro muscono i soldi e le città devono pagare. Non è il caso naturalmente di a tutto volume perché a tutto volume è una manifestazione che si in qualche modo ormai si auto incensa, ormai è diventata più grande di quanto potevano pensare loro. Ora io parlo invece di a tutto volume, come posso dire, quella meno importante, ma non per la qualità degli scrittori, ma perché non è inserita, non è in piazza, con tutte le sedi in piazza. Questa è un'iniziativa di cui abbiamo parlato ieri con Lorone Campo, la presentazione del suo libro, in un angolo delizioso della nostra città, è un cortile, mi pare sia Palazzo Antoci, in via Matteotti, è veramente un posto delizioso. Poi il tempo era buono, quindi è stato divertente seguire questo appuntamento. Come pure è stata interessantissima la prima giornata delle giornate diabetologiche che si sono svolte, che sono in pieno svolgimento a Poggio del Sole. Noi siamo stati oggi a fare le immagini, a fare un servizio e le faremo domani un altro. Quindi, siccome crediamo che sia molto importante per i nostri telespettatori sapere quale sono le novità in questo settore, vi lascio con il servizio di Gianni Papa. Grazie per l'attenzione, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti.